Che cos'ha di speciale Christopher? Che cos'è che lo rende speciale? Christopher dal momento in cui è uscito dal mio ventre è già un bambino speciale per me. Quindi, sai, essere mamma è una gioia infinita. Ogni cosa che lui fa, quando respira, quando mi guarda, quando mi accarezza, quando mi dà un bacio, ogni cosa che lui fa per me è speciale. Ecco, e sai Alfonso, visto che ne stiamo parlando, no? E' importantissimo. Quando un bambino ha quella condizione, la diagnosi precoce è importante. Perché purtroppo, io anche parlandone sui social dell'autismo, ne parlo spesso, tante volte viene a scoprire che i genitori non vogliono vedere, o ci sono atteggiamenti strani sul bambino e lo giustificano, magari per paura di scoprire che dietro c'è qualcosa che non va nel bambino. Invece no, appena c'è un campanello d'alarme, poi magari va tutto bene. Il bambino deve essere subito visitato, perché iniziare il percorso riabilitativo a un'età precoce è direttamente proporzionale al miglioramento del bambino, ed è fondamentale, veramente. Grazie. 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 Grazie.